Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video, sono Lorenzo Campo, co-founder del progetto Gottenation, il primo progetto NFT con utilities reali nel mondo reale sin dal giorno zero. Tra l'altro progetto che lanceremo ragazzi domani, per voi che state guardando questo video, il 26 aprile. Quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, adesso è un po' tardi, però andate a vedere tutti i link utili qui sotto in descrizione. Vedete il sito web, vedete il disco, insomma fa tutto quello che dovete fare perché domani ci sarà il lancio ufficiale finalmente dopo mesi e mesi di lavoro. Quindi vi invito davvero a dargli un occhiale perché è un progetto molto molto interessante. Ci ho fatto anche un video ovviamente dedicato qui sul mio canale che potete trovare cercando Gottenation, Lorenzo Campo oppure comunque sul mio canale YouTube per vedere tutto. Ok, quindi mi raccomando, venite a iniziare con il video, iscriviti al canale, attiva la campanella se ti interessano gli NFT, la blockchain e le crypto in generale perché sto portando praticamente un corso gratuito qui su YouTube. Ho fatto anche una playlist che si chiama Corso Gratuito NFT che troverai sempre sul mio canale YouTube e nada, quindi iniziamo con il video, in questo video parliamo di Gas Fee. Ovviamente ti invito anche poi a seguirmi su tutti i social, soprattutto Instagram e Twitter che trovi sempre qui sotto in descrizione, mi trovi come LorenzoCampo22. Adesso, fatte tutte le premesse, andiamo subito al succo del video, quindi parliamo di Gas Fee. Cosa sono le Gas Fee? L'ho già spiegato in un altro video, quindi ti invito ad andarlo a vedere perché lì ho spiegato cosa sono nel dettaglio. Adesso vedremo, faremo un video leggermente più avanzato su come utilizzarle in modo più ottimizzato possibile, quindi leggermente uno step dopo. E quindi, insomma, mi faceva piacere anche in vista del Mint, del lancio che ci sarà del nostro progetto NFT il domani, non so quando stiamo guardando questo video, comunque il 26 aprile, perché, insomma, anche le Gas Fee sono importanti per quanto riguarda poi l'acquisto, perché fanno parte, a tutti gli effetti, di un costo che si ha in più quando si fanno transazioni nella rete, nella blockchain Ethereum. Quindi andiamo a vedere un po' come funzionano queste Gas Fee. Allora, io intanto divido questo, questo sarà un video breve, però lo divido in due parti. La prima parte è quella un po' più, diciamo, beginner, quindi un po' più da principiante, che si limita a questa cosa. Praticamente voi quando fate una transazione sui dirim, quindi non per forza comprate un NFT, però facciamo l'esempio, state comprando un NFT e vedete che volete fare la transazione con più velocità, ok, oppure per esempio dovete fare un'altra transazione invece su Ethereum, dovete mandare, non so, a un vostro amico 100 euro in Ethereum e non vi interessa la velocità, non vi interessa tra quanto arrivano. Adesso vi spiego come andare a gestirle in modo molto, molto veloce. Ovviamente apriamo il nostro Metamask, qui avevo già preparato una transazione molto easy, d'esempio. Intanto mi sposto di qua perché se no, ok, se no si vede un po' meglio. Allora, qua cosa vediamo? Queste qua sono le Gas Fee, questo è quanto inviamo, qua ho fatto una transazione esempio, ripeto, e qua ci sono le Gas Fee stimate se non tocchiamo nulla che andremo a pagare. Quindi ci fa vedere il totale delle Gas Fee e qua quanto pagheremo in totale, insomma, per la transazione. Ovviamente qua è poco perché sto facendo una transazione tra account, quindi è una roba che richiede poche Gas Fee. Però se noi andiamo a fare modifica, ok, ci si apre questa schermata qui. E qui è dove voleva arrivare nella parte, diciamo, principiante. Qui possiamo vedere, possiamo cliccare su Low, su Medium e su High. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che noi possiamo selezionare, diciamo, in modo molto veloce, se vogliamo una transazione più veloce, a velocità normale, oppure più lenta, perché non ci interessa appunto la velocità. E quindi qua ci dice, molto probabilmente avverrà in meno di 15 secondi, molto probabilmente in meno di 30 secondi, probabilmente in 30 secondi o di più in realtà. E qua in realtà è sempre di più, perché dipende soprattutto dal traffico che c'è sulla rete Ethereum. Quindi voi, io per esempio ho fatto una transazione su un mio altro conto, non mi interessava quanto tempo ci metteva, non mi interessava di metterci 30 secondi, ho messo il minimo, ok, ho messo il minimo e ci ha messo a 24 ore, ok. Quindi occhio, perché non vuol dire più di 30 secondi, ci metto un minuto, due minuti, potrebbe anche metterci diverse ore, ok. Però se non mi interessa, comunque pagate meno di Gas Fee, amen, comunque la transazione va sempre a buon fine. Quindi questa è la prima cosa che ci tenevo a dire. Quindi se voi non volete troppo smanettarci, non volete perdere troppo tempo, avete fretta, fate così, boom, mettete al massimo e diciamo che qua già siete un livello superiore rispetto a tutti gli altri che stanno provando a mintare o comunque a fare una transazione magari sulla media, ok. Semplicemente cliccando qui, andate su salva, vi si salverà e basta, andate su conferma e fate la transazione. Mentre il livello più avanzato è quest'altro. Andando a vedere qui, come vedete ho sotto un sito web che ci aiuta in questa cosa, perché andando su modifica, tra l'altro il sito web ne ho già parlato all'interno del video in cui parlavo dei Gas Free, quindi non sto troppo adesso a ripetere. Andando su opzioni avanzate, vediamo che ci si apre questa qua, che è l'opzione avanzata, dove possiamo modificare il gas limite, ok, che sono il massimo dell'unità di gas che vogliamo utilizzare, ok, ovviamente qui, ripeto, nel dettaglio, vedete tutto il video su cosa è ogni singola cosa, la massima priori di phi, ovvero il nostro G-Way, ok, e la max phi, ok. Quindi, come funziona questa cosa? Cosa vuol dire? Cosa dobbiamo modificare? Bene, banalmente, ve lo dico in modo molto semplice, questo qui, gas limite, non va toccato, perché è semplicemente un moltiplicatore, se noi qua mettiamo uno 0 in più, vedete che da 2 passa a 27 e così via. Quello che dobbiamo modificare, solitamente, è la max priori di phi e la max phi. In che modo? Come la modifichiamo? In questo modo qua, ve lo faccio vedere. Voi guardate questo, mi metto qua sopra, guardate in questo appunto sito web che vi ho fatto vedere, c'è queste, ci sono questi numeri con priori di phi e max phi. Questo qua è, in questo momento, quindi in tempo reale, sul blockchain Ethereum, quanto costa effettuare una transazione con più o meno probabilità, ovviamente anche di velocità, quindi, di nuovo qua, dal meno veloce, meno probabile, 70% di probabilità, al più veloce, più probabile, con il 99% di probabilità. Quindi, noi, per essere tranquilli, qua vediamo che c'è 2,22, 85, mettiamo 2,22, 2, vediamo se si riesce, se mi deve fare, ok, 2,22, 85, e vedete che qua è aumentato, non drasticamente, ma comunque è aumentato di un pochettino l'anteprima della gas phi. Ovviamente, come vedete, questo cambia a una velocità disarmante, cioè, è perché è in tempo reale, quindi il mio consiglio, se volete fare proprio il massimo, ok, quindi la massima velocità, questo è un livello più avanzato, quindi mi raccomando, fate queste cose soltanto se sapete davvero cosa state facendo, se avete confidenza con gli strumenti che sto utilizzando, perché, ripeto, se qua mettete uno zero in più per sbaglio, perché avete scritto così, qua passate a pagare, vedete, la max t passa da 5 dollari a 52 dollari, quindi magari a volte potete pagare, vedete, poi qua vi dice comunque che è più alto del necessario, comunque, magari per comprare una cosa di corsa pagate mezzo ethereum di gas phi e magari poi vi rode, quindi, occhio, fate queste cose soltanto se avete consapevolezza e confidenza con gli strumenti. Quindi, ultimo consiglio è questo, vedete qua la max priori di phi, 2,10, 77, ok, direi io voglio farlo per forza, è un mint, è il mint della vita, voglio fare questa transazione il prima possibile al 100%, io lo moltiplicherei, quindi moltiplicherei per 2, quindi magari facciamo un 5 e un 150. Ovviamente ci dice che è più alta del necessario, però noi lo sappiamo, perché abbiamo visto, lo stiamo facendo apposta che è più alta del necessario, perché vogliamo andare al 100%, fare al 100% questa transazione, quindi poi qua è leggermente più alto, facciamo salva di nuovo e da qua, da 2 dollari, è passato a 3 dollari, sì, praticamente a 3 dollari, ovviamente qua cambia poco, perché, ripeto, è una transazione tra account, quindi quella che richiede meno phi, ok? Ovviamente se dobbiamo mintare un NFT, le phi sarebbero molto molto più alte, non drasticamente più alte, però comunque sarebbero più alte. Ovviamente noi, riguardo il nostro progetto NFT, abbiamo evitato, intanto qui fatemi chiudere, perché spero sia tutto chiaro, non c'è niente da aggiungere su quest'altra cosa, quindi ovviamente noi, per il nostro progetto NFT, abbiamo ottimizzato al meglio gli smart contract, per non fare una gas war, una guerra di gas, dove le persone pagano cifre esorbitanti per le gas fee, quando compro un NFT, però chiaramente non possiamo mai sapere cosa succede alla rete Ethereum, perché quella non è sotto il nostro controllo, quindi secondo me, con questi accorgimenti, mi sono sentito di fare questo video, insomma, prima del lancio, perché per chi lo guarda, comunque potrebbe avere un vantaggio indifferente riguardo la gestione, insomma, di queste gas fee. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io spero davvero vi sia stato utile, fatemi sapere qui sotto con un commento, condividete il video, fatemi, insomma, capire che questi contenuti vi sono utili, e, nada, noi ci vediamo al prossimo video, che Vitalik sia con voi. Vi aspetto, ovviamente, dentro GotNation. Grazie a tutti.